Benvenuti nel mondo degli orologi Roman Gerom. Roman Gerom è uno dei marchi di orologi di lusso più innovativi e creativi al mondo. Fondato nel 2004, il marchio è noto per aver rivoluzionato il design degli orologi utilizzando materiali insoliti e innovativi. In particolare, Roman Gerom è stato il primo marchio di orologi ad utilizzare il carbonio composito per la cassa dell'orologio. Questo materiale leggero e resistente, utilizzato nell'industria aerospaziale, ha permesso al marchio di creare orologi dalla linea elegante e moderna, ma allo stesso tempo robusti e resistenti. Ma non è solo il carbonio composito ad aver reso Roman Gerom un marchio di successo. Il marchio ha infatti utilizzato anche materiali insoliti come l'acciaio proveniente dal relitto del Titanic, la lava proveniente dal vulcano islandese Iafjallajokull e il carburo di tungsteno del modulo lunare dell'Apollo 11. Questi materiali, che rappresentano eventi tragici o storici, hanno suscitato alcune polemiche e critiche, ma hanno anche contribuito a rendere gli orologi Roman Gerom unici e distintivi. Ma la creatività di Roman Gerom non si limita solo all'utilizzo di materiali insoliti. Il marchio ha infatti collaborato con artisti e designer per creare orologi ancora più unici e distintivi. Tra le collaborazioni più famose, quella con il famoso artista John Hamleder, per creare una serie di orologi decorati con motivi geometrici e colorati. Nonostante le polemiche, Roman Gerom continua ad essere un marchio rispettato e apprezzato nel mondo degli orologi di lusso per la sua innovazione e design distintivo. Grazie a tutti.